Sono 12 soggetti dell'operazione Donk arrestati, di cui 10 in carcere e 2 agli arresti domiciliari. L'accusa è quella di reati di furto aggravato, ricettazione e riciclaggio, principalmente di autovetture. Il lavoro degli inquirenti ha condotto ad appurare che l'organizzazione criminale spesso agiva su commissione di carrozzieri e collezionisti del settore. Il sodalizio criminale non si occupava però solo di smantellamento di automobili, ma si era anche specializzato nel commercio di equini e asini con fini di macellazione. Abbiamo scoperto che la famiglia proprietaria delle attività commerciali dove avvenivano commessi i reati avevano anche nelle disponibilità un maneggio, un maneggio dove c'era un utrito numero sia di cavalli che di asini. Dall'ispezione documentale siamo stati attirati da una stranezza, il fatto che c'erano diversi smarrimenti periodicamente degli asini in particolare. Insomma, poi l'attività di indagine che è scaturita ci ha fatto scoprire che c'era un giro di macellazione clandestina di questi poveri animali. Qua stiamo parlando di veri professionisti anche per quanto riguarda i ladri, chi materialmente commetteva i furti non erano i soliti ladruncoli di autovetture, non quelli che si muovevano una volta con lo spadino. Si tratta di soggetti che avevano attrezzature altamente tecnologiche. I furti avvenivano principalmente nelle province di Cremona, Brescia, Piacenza, Lodi, Parma, Mantova, Pavia e la Monza-Brianza. Nel corso delle investigazioni, oltre alle 12 persone arrestate, sono stati tratti in arresto, in fragranza di reato, 7 soggetti e dei feriti in stato di libertà altri 27. In totale sono stati accertati 131 furti di autovetture e sequestrati 111 motori di autovetture e componentistica automotive per valore complessivo di 4 milioni di euro.